Eccoci al podcast di questa settimana, una settimana particolare, quella entrante che ci dirà tra le altre cose chi sarà il nuovo re del mondo, chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Ma andiamo per gradi e diciamo intanto che parleremo quindi di Trump contro Biden che entra nel vivo, ma parleremo anche di Covid e le sue ripercussioni nelle economie e poi di trimestrali negli Stati Uniti. Cominciamo da Trump Biden, entra nel vivo come dicevo e ci sono dei probabili scenari, ma prima di tutto voglio spiegarvi perché c'è quella strana copertina dove c'è Gerulitis, un tennista degli anni 80, che sta cadendo per terra. Praticamente è una storia di allora, era il master del 1981, riferito al 1980, Gerulitis giocava contro il ben più famoso Landel, anche se allora era giovanissimo e vinceva 2-7-0, praticamente aveva avuto un set point addirittura nel terzo set per vincere la partita e poi ha perso. Che cosa è successo a Gerulitis? Che a un certo punto della partita è andato a rete, Landel ha tirato una sassata, un passante micidiale, lo ha colpito in piena fronte, questo è il fermo immagine che vi ho messo e lo ha messo KO per qualche secondo. Di fatto a Gerulitis quando era sul punto di vincere una partita molto importante è venuto il braccino, ecco il braccino del tennista, quella roba per cui a un certo punto hai paura di vincere e quindi rischi o come nel suo caso riesci addirittura a perdere. Questo è quello che secondo me sta accadendo in questi giorni negli Stati Uniti con un Biden che aveva un vantaggio notevole ma che siccome gli è venuto il braccino è stato molto meno attivo di Trump che negli ultimi giorni sta in realtà risalendo tantissimo la china quindi l'esito sarà secondo me molto difficile da definire prima. Però direi che potremmo individuare tre scenari. Il primo scenario che prezzo come probabile è che Biden comunque vinca con un certo distacco, con un importante distacco. Questo succede se Biden riesce a fare suoi tutti quegli Stati che attualmente sono in bilico. Poi c'è un secondo scenario che secondo me è quello più probabile in assoluto ed è che Biden vinca di poco. Gli basterebbe probabilmente conquistare anche solo una minima parte degli Stati che sono in bilico per arrivare a questo risultato. E poi c'è lo scenario numero tre che è quello che io prezzo un pochino come meno probabile però la sorpresa può sempre arrivare ed è che Trump vinca. Trump non può vincere con grande distacco. Al massimo vince di poco però questo è un ulteriore scenario un po' meno probabile ma che esiste. Quindi ribadisco scenario più probabile Biden vince di poco. Scenario probabile Biden vince di tanto. Scenario meno probabile Trump vince di poco. Ecco io credo che se Biden vincerà di poco è quasi certo che Trump impugnerà l'esito delle elezioni contestando il voto postale. E questo potrebbe essere molto deleterio per i mercati. Perché? Perché i mercati non amano l'incertezza e per quanto apprezzino di più Trump rispetto a Biden per quanto riguarda Wall Street effettivamente in qualche modo è meglio sapere l'esito subito anche se non è quello che preferisci piuttosto che avere un'incertezza che durerà non so quanto tempo. L'effetto più deleterio sui mercati sarebbe un Biden vincente di poco con Trump che contesta l'esito delle elezioni. Vorrei fare anche un altro esempio per ribadire qual è proprio la situazione in cui si trova in questo momento Biden. È come se una squadra in zona retrocessione va in trasferta con la prima in classifica e si trova in vantaggio in maniera totalmente inaspettata ma sono gli ultimi minuti prima della fine. Probabilmente i democratici non pensavano mesi fa di avere l'occasione di vincere. Tutto quello che è successo negli ultimi mesi dà loro questa possibilità ma adesso che siamo addirittura di arrivo gli sta venendo il braccino. Ecco il secondo esempio. Passiamo da questo ad analizzare il contesto del Covid. Il Covid sta spaventando soprattutto in Europa. Perché più in Europa che non negli Stati Uniti? Perché negli Stati Uniti non ha mai smesso di spaventare. Mentre da noi aveva smesso, era quasi stato dimenticato per un certo periodo e ora torna a essere ingombrante prima notizia che soverchia qualsiasi altra nei telegiornali. Allora l'impatto di un eventuale nuovo lockdown sull'economia sarebbe terribile perché le economie non si sono ancora riprese bene e del tutto dalla situazione precedente. E si vede anche da quelle che sono le tensioni sociali quanto, diciamo così, l'opinione pubblica sia contrastata nel capire che cosa va tenuto su o cosa va tenuto giù dalla torre. È normale questo perché, vedete, secondo me quello che è successo è che noi in Europa, noi latini più assistenzialisti per DNA, diciamo così, non abbiamo avuto esitazioni in primavera a buttare giù dalla torre l'economia per salvaguardare la sanità. Una cosa diversa è stata fatta negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, palesemente, ed è quello che viene contestato a Trump, è stata buttata giù dalla torre la sanità per salvare l'economia. A questo punto però l'economia ha subito danni per qualcuno addirittura irreparabili e quindi c'è ora un atteggiamento ibrido. Non si riesce a decidere se buttare giù l'una o l'altra e si finisce per fare danni su entrambi i fronti. Abbiamo quindi le ripercussioni di un'economia tartassata che finisce per portare la gente in piazza e dall'altra parte abbiamo i contagiati che salgono contestualmente di un sacco di numeri e gli esperti dicono che tutto questo sta succedendo perché abbiamo avuto troppo ritardo nel chiudere tutto e che bisogna chiudere tutto il più in fretta possibile. Qualcuno, diciamo così, non potrà che sottolineare e io lo faccio in maniera forte che tutta l'emotività che si è scatenata da questo punto di vista ha portato molti a chiudersi in un auto lockdown per cui i riflessi sull'economia saranno pesanti e questo nonostante il governo faccia molta attenzione anche nel marketing, anche nell'uso delle parole perché non parla più di lockdown ma per parlare di un mini lockdown usa la parola coprifuoco. Questo è diverso e dobbiamo anche pensare che ci sono dei riflessi che derivano dalle emotività e da tutte le situazioni del covid che poi si vedono anche come effetti sui mercati finanziari. Cos'è che piacerebbe fare ad ognuno di noi probabilmente? Ci piacerebbe portare a casa la liquidità, sentirci al sicuro e metterci in posizione di attesa, magari pronti a sparare delle cartucce oppure ad avere il denaro come scorta se dovesse essere necessario. Però all'inizio, almeno per chi magari era soprattutto in perdita, questa attività è stata difficile, dolorosa da attuare perché non è mai facile accettare di vendere anche se i prezzi non sono quelli che avremmo voluto vedere. Però altri lo fanno e i prezzi scendono e soprattutto negli Stati Uniti, che sono un po' il faro, i prezzi scendono anche per tutto quello che ci sono dietro i timori elettorali e quindi questo esaspera tutto il contesto. Noi subiamo i ribassi legati all'andamento della borsa statunitense, non più sugli scudi, ai quali si aggiungono le vendite di chi vuole fare liquidità. Il cash è l'asset class più ambito del momento, questo fa scendere i mercati e ci ha lasciato, per così dire, un po' bloccati. Quindi attenzione ad ognuno di noi di fare quello che ritiene più opportuno, questa è la cosa più importante, avere consapevolezza di quello che succede sui mercati. Parliamo ora del terzo argomento che sono le trimestrali negli Stati Uniti e i motivi delle discese di alcuni titoli, di cui proprio non ci si aspettava probabilmente il ribasso, anche perché hanno dato dei risultati assolutamente buoni. Ma perché allora sono scesi? Vi faccio di nuovo un esempio. Avete presente quando a scuola può esservi capitato che il professore avesse dato a te un brutto voto, un voto più brutto di quello del tuo compagno, nonostante tu avessi fatto un compito migliore del suo. Questa è una cosa che qualche volta mi è capitata e quindi ho chiesto spiegazioni e le spiegazioni sono state banalissime. La spiegazione fu, lui ha fatto meglio di prima, si è migliorato, da te invece mi aspettavo molto di più. In pratica, tradotto col gergo della borsa di oggi, il professore era andato long sul mio compagno che sapeva meno di me ma era in miglioramento e short su di me perché si aspettava di più. Questa è una cosa che mi aveva stranito allora ma che ritrovo oggi in quello che succede sui titoli in borsa. Danno dei risultati molto buoni ma non sono così buoni da giustificare le aspettative enormi che si erano create. Allora tu non mi stupisci e quindi ti vendo. Tu hai fatto un buon compito ma mi aspettavo che facessi perfetto e quindi ti do un voto peggiore. Proviamo ad immaginarci questa cosa nel mondo del calcio. La Juve dopo aver preso Ronaldo, chi può comprare il giorno che lui dovesse andare via? Non è sufficiente fare gol, devi fare gol, offrire personaggi, dare un grande spettacolo, altrimenti non mi stai stupendo e allora io ti vendo. Le grandi aziende americane hanno dato ottimi risultati battendo magari o avvicinandosi alle stime degli analisti ma ciò nonostante sono vendute perché o non hanno raggiunto proprio quella cifra che sarebbe stata lo stupore o hanno ammesso che in futuro non saranno in grado di fare questo e allora il mercato le vende per ora nonostante gli ottimi risultati sin cui conseguiti perché quegli ottimi risultati non sono fantastici e quindi non sono in grado di alimentare ulteriori aspettative in crescita. Siccome tutto ciò avviene anche in un momento in cui si teme che un'eventuale elezione di Biden possa far aumentare le tasse sulle imprese e chissà magari anche far aumentare la tassazione del capital gain negli Stati Uniti, ecco che chi ha fieno in cascina lo porta a casa e si porta avanti col lavoro. Per questa settimana è tutto, stiamo a vedere come finisce, un unico accenno al fatto che in settimana parlerà Powell che secondo chi sarà il nuovo re del mondo, se sarà Biden o sarà Trump, potrebbe già essere un quasi ex. Alla prossima, ciao!